Salute a tutti i nostri telespettatori, bentornati all'appuntamento con la piazza del lavoro, lo spazio che ci consente di approfondire alcuni temi che ruotano attorno al mondo del lavoro e oggi in particolare parleremo di grandi numeri, in realtà non è la traduzione corretta di questo Big Data di cui tanto si sente parlare, che cos'è Big Data e quali sono le professioni che appunto rappresentano le professioni del futuro che ruotano attorno ai Big Data. Ebbene ricordiamo che tutto è registrato, ogni movimento, ogni transazione, ogni conversazione, la digitalizzazione spinta della società in cui viviamo, abbinata alla diffusione di sensori e di collegamenti produce una quantità di dati inimmaginabile fino a pochi anni fa. Raccogliere, elaborare, analizzare informazioni e dati rappresenta una nuova opportunità di lavoro. Sono tante le professioni che ruotano attorno ai cosiddetti Big Data, l'enorme mole di dati raccolti può rappresentare un aspetto determinante nella competizione fra aziende. Proprio questa mattina a Milano si è svolto un convegno su questi temi, Big Data e le professioni del futuro. Questo è il titolo del convegno organizzato dal gruppo ADECO in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Erano presenti studiosi ed esperti in rappresentanza del mondo della formazione, ma c'erano anche realtà imprenditoriali e aziendali. Allora di tutto questo parleremo con i nostri ospiti che vi presento subito. A cominciare da Lorenzo Biffi, Attraction Manager del gruppo ADECO Italia, che tra poco ci presenterà anche una ricerca su questo tema. Accanto a lui abbiamo la professoressa Emma Zavarrone, professore della IULMA di Milano. E poi ancora Stefano Maio, direttore Business Analytics Oracle Italia, società di informatica fra le più grandi e più famose del mondo. Di fatto una delle società che rappresenta la Silicon Valley, famosa. Insomma, è un'azienda che sappiamo ha sviluppato e ha costruito strumenti e software che ci consentono tra l'altro anche di analizzare proprio questi dati. Allora questa enorme mole di dati, difficile probabilmente anche per un pubblico eterogeneo come quello che è rappresentato dalla TV generalista, capire un po' ed entrare in questo argomento, perché effettivamente può rappresentare un argomento un po' tecnico. Ebbene, c'è chi ha fatto notare come dall'alba della civiltà al 2003, l'umanità ha registrato 5 exabyte di dati. Poi vedremo cosa sono gli exabyte. Oggi questa stessa quantità dall'alba dell'umanità al 2003, oggi questa stessa quantità di dati è registrata ogni due giorni. Ecco, giusto per dire quanti dati bisogna gestire e analizzare. Chi l'ha detto questo? Lo avrebbe detto, non è una dichiarazione che ho raccolto io, ma l'ha detto Eric Schmidt, già amministratore delegato di Google fino al 2011 e poi dal 2011 presidente del CDA. E d'altra parte Schmidt è uno che di numeri capisce parecchio, perché risulta essere nella classifica della rivista Forbes la 137esima persona più ricca del mondo, con un patrimonio stimato in oltre 9 miliardi di dollari, quindi evidentemente qualche numero ne lo sa fare. E allora, sentiamo subito i nostri ospiti, a cominciare da Lorenzo Biffi. C'è il rischio di annegare nei numeri oggi? No, non c'è il rischio di annegare nei numeri. Noi in particolare abbiamo voluto svolgere un'indagine con le nostre aziende, capire innanzitutto come le aziende considerano questa tematica, il tema dei big data, quanto lo conoscono, quanto ne sanno le aziende, perché oggi se ne parla tanto, ma esiste veramente una conoscenza approfondita. Era il primo obiettivo della nostra indagine, del nostro studio, per poi affrontare il tema delle nuove professioni, quali sono, dove va il mondo del futuro legato ai big data, e poi, non ultimo, ma altrettanto importante, queste nuove professioni, che necessità formative hanno, quali sono gli aspetti delle competenze che impattano direttamente su queste figure professionali. Questo è stato un po' il tema che ci ha portato a ragionare su un po' di numeri. Ecco, e a proposito, professoressa Zavarrone, la formazione, il mondo della formazione in Italia, è pronto e preparato per gestire questa esigenza? Sfortunatamente ancora no, nel senso che esistono poche realtà consolidate di insegnamento e non nei livelli, diciamo, di laurea triennale, bensì ci sono alcune realtà sporadiche a livello di lauree magistrali e non più di dieci master e corsi di perfezionamento attivi su tutto il territorio nazionale. Per cui partiamo da un'offerta della LUIS che si articola su un territorio, su una cadenza annuale per finire all'ultimo nato, proprio è stato varato due settimane fa, master in decision science, big data in decision science dell'Università di Palermo. per cui, fermandoci sul territorio a Torino, Pisa e altre sparute realtà, tra cui ovviamente non ultima, perché è attivo sul territorio da cinque anni, l'iniziativa del master che è erogato in Bicocca, sempre in business science e in big data. Insomma, il mondo della formazione sta un po' rincorrendo questo mondo di dati da analizzare e quindi di cui in parte anche Maio è responsabile, perché grazie anche ai vostri software e al vostro hardware questi dati possono essere raccolti, devono poi essere analizzati. Ecco, ma a chi sono utili questi dati? Sono utili a tutti. Oggi qualunque manager di qualunque azienda, di qualunque settore e quindi anche poi all'interno delle aziende di questi settori e nelle quali aree ha bisogno di prendere decisioni. Quindi sostanzialmente non cambia niente rispetto a prima di dare questo nome alla valanga dei dati, big data, perché di fatto si tratta ancora di prendere decisioni. Prendere decisioni consapevoli, quindi prendere decisioni sulla base di molte più informazioni, organizzate in maniera differente. Si parla di dati strutturati, di dati semistrutturati, di dati non strutturati. E qui, chi più ne ha più ne metta, si parla dei sensori che ci circondano e che ci dicono, un po' come nel Minority Report, che ormai è datato un po' di anni fa, che si arriva nel supermercato ed è plausibile che ci sia un sensore che ci identifichi, che siamo stati lì una settimana prima, che abbiano comprato un articolo e che quindi ci proponga qualche cosa. Tutto questo è dato da una serie di informazioni che vengono elaborate, vengono prima raccolte, vengono elaborate, poi sulla base di qualcuno che le analizza e degli software che hanno la capacità e la potenza di poter mettere a terra queste sofisticatezze, si passa poi alla parte di saper far prendere delle decisioni consapevoli. Ecco, naturalmente poi questi dati possono essere utili proprio perché consentono, nei vari ambiti, di poter prendere decisioni consapevoli. Adesso però noi andiamo proprio con un'intervista realizzata questa mattina a Milano, a Milano Bicocca, dove c'è stato questo convegno, il Big Data e le professioni del futuro. Sentiamo, diciamo così, il docente che ha, in qualche modo, agevolato questo incontro, il professor Paolo Mariani, dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Sentiamo cosa ci dice. È necessario trovare un'attività di mediazione fra le richieste delle aziende e la formazione accademica. Quindi questi momenti aiutano a creare momenti di condivisione, di comunicazione, di esplicitazione reciproca dei bisogni. Perché lei ha detto che i dati si devono ascoltare? Perché, contrariamente a quanto siamo stati abituati con la statistica classica, dove noi ponevamo delle domande ad un campione rappresentativo di individui. Qui in realtà ci limitiamo, tra virgolette, ad ascoltare quello che viene fuori da un'augurà virtuale, da una serie di tracce digitali che vengono lasciate di tutti noi, che non necessariamente rispondono ad una domanda specifica. È come se ascoltassimo continuamente per capire se c'è qualcosa che ci può essere veramente utile. Come si impara ad ascoltare questi dati? Questa è una domanda complicata. Si impara soprattutto ascoltando con molta frequenza e distinguendo il segnale dal rumore di fondo. Quindi la capacità è quella di trovare il segnale, quindi l'ascolto che vogliamo effettuare, da tantissimo rumore di fondo che è presente all'interno di questa nuova possibilità informativa. Le università italiane sono pronte a preparare i nuovi esperti? Sì, molte università sono già partite. Il MIUR, come avevo anticipato durante la relazione, ha già creato un report dove dà un primo elenco delle università che hanno già corsi di questo tipo. Siamo pronti anche noi come Milano Bicocca, abbiamo già inserito dei corsi specifici all'interno delle singole attività, dei corsi di studio, quindi dei corsi che aiutano a capire meglio come si lavora con questa nuova possibilità offerta dai big data e con corsi di master, come sono già presenti, e con corsi di laurea magistrale che partecipano. Ecco, il professor Paolo Mariani, che appunto ci ha detto qual è l'esigenza di fare incontrare i vari settori che vengono coinvolti da questa analisi di big data per tentare di capire come gestire. Un momento di passaggio si sta aprendo, si è già aperta, secondo alcuni, una nuova era nella gestione di tutti questi dati che ci porterà chissà dove. Ma Bipi, le aziende che cosa chiedono oggi a questi dati? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che c'è poca consapevolezza da parte delle aziende. L'indagine che abbiamo svolto ci dice che solo il 12% delle aziende sanno esattamente di cosa stanno parlando, sanno cosa sono i big data e come poterne utilizzare tutte le potenzialità. Purtroppo il 40% invece ci dice di non averne mai sentito parlare, ma il grande battaggio che c'è stato sulla stampa in questo periodo non ne hanno mai sentito parlare. Quindi c'è una consapevolezza solo parziale, una conoscenza superficiale per cui si utilizza. Le aziende vedono le potenzialità molto legate al mondo marketing, molto legate al mondo della comunicazione, che è tutto quello che è il mondo social, mentre meno vedono le potenzialità e i vantaggi che potrebbe avere il tema dei big data sull'industria 4.0. tutto il tema della fruibilità del dato è trascurato e questo è un peccato perché ci sono grandissime opportunità all'interno di questi settori. Ecco Maio, ma queste aziende che non vedono ancora, poi vedremo anche i dati nel dettaglio con l'aiuto della grafica, ma lei ogni giorno è in azienda? E quindi ha a che fare con queste realtà che sono in qualche caso preparate, consapevoli. In altri casi invece, lei oggi diceva, stamattina diceva mi serve in qualche azienda ci vuole un medico, perché? Sì, questo è l'aneddoto che ho raccontato stamattina che è un fatto vero, che sono andato in un'azienda a un certo punto un mio interlocutore anche di un certo spessore in azienda mi ha detto ma io ho i big data? Oddio, me l'ho presa, mi sono contagiato. Mi sono contagiato, una malattia, quindi parlavamo del mestiere dicevo con Lorenzo del medico dei big data, ma in realtà questo è uno spaccato assolutamente significativo di quanto oggi è percepito il valore e il valore competitivo che i big data possono portare, ma che è enorme e oggi i dati strutturati, semistrutturati o non strutturati sono ancora analizzati pochissimo c'è una ricerca di alcuni analisti di settore che ci dicono che è a livello mondiale e i dati sono ancora pochi quelli che sono utilizzati quando invece nelle aziende il vantaggio competitivo sarebbe enorme perché evidentemente attraverso lo studio di questi dati ci sono oggi degli esempi abbastanza significativi di aziende in particolare nel mondo manifatturiero l'Italia è la patria del manifatturiero e l'industria 4.0 ci debba aiutare e il vantaggio è proprio quello di trasformo il mio business in qualcos'altro il massimo della richiesta che mi viene posta ed è successo davvero anche questo qui l'estremo opposto è il capo dell'azienda l'imprenditore l'amministratore legato o comunque qualcuno del board che mi dice mi devi aiutare a trasformarmi da azienda di prodotti a azienda di servizi e siccome oggi molte aziende che facciamo prodotti si trovano a fornire dei servizi e potrebbero essere tantissimi esempi attraverso la fruizione del dato la migliore gestione del dato questo fa capire subito che c'è un enorme vantaggio c'è un enorme valore nel mettersi a lavorare seriamente su questi dati ecco io vorrei tornare su questo aspetto così un po' esoterico un po' magico che era citato prima dal professor Mariani professoressa Zavarone questi dati che non si devono interrogare ma si devono ascoltare immaginate un po' questa così questa come dire predisposizione ad ascoltare i dati perché vanno sì interpretati bisogna saper cogliere quello che ci dicono allora con i big data cambia la prospettiva della lettura del dato perché giusto parafrasanto un po' quello che diceva il professor Mariani mentre in passato si partiva la statistica classica costruisce l'indagine somministra il questionario e quindi analizza quello che i rispondenti forniscono le risposte date dai rispondenti in questo caso il processo è capovolto nel senso che siamo sono i dati ciò che i rispondenti hanno già creato i contenuti individuali che sono già messi in una rete che sono già messi a sistema che se analizzati in modo opportuno perché questa è una delle grandi cautele che dobbiamo porci sono in grado di fornire delle indicazioni ecco questo è l'ascolto dei dati l'analisi il risultato di determinate analisi su grande mole di dati possono fornire delle indicazioni che probabilmente in un'analisi vecchio stampo queste indicazioni potrebbero in qualche modo non essere giustamente percepite quindi abbiamo la possibilità di espandere le nostre implicazioni quindi fidarsi di questi numeri di questi dati perché dall'analisi nascono idee nascono rappresentano un vero e proprio input diciamo ma guarda un po' ma guarda un po' che coincide ma guarda come mai questo aspetto coincide con l'altro io avevo mi ero segnato un esempio per esempio in ambito medico vediamo se tra le mie foglie ecco l'applicazione della sanità c'è stato uno studio in Canada un monitoraggio di più di mille dati al secondo i ricercatori hanno dimostrato ai medici quindi i ricercatori hanno dimostrato ai medici che i bambini nati prematuri con segni vitali stabili hanno alte probabilità di sviluppare una grave febbre nel giorno successivo al parto con conseguenze mortali i dati hanno permesso di prendere adeguate contromisure e quindi salvare vite cioè quindi analizzare tutti questi dati metterli insieme appunto elaborarli ha consentito poi di scoprire questo aspetto e quindi per i medici ha consentito i medici di intervenire insomma per dire e quindi insomma anche questo è senz'altro da tenere in considerazione ma questo è soltanto uno dei tanti ambiti dei tanti settori in cui i dati vengono utilizzati di altri settori parleremo tra qualche istante prima però una breve pausa grazie a tutti big data di nuovo in studio per parlare di questi grossi dati no in realtà non sono grossi dati è tutto un settore in grande trasformazione e che in qualche modo inciderà anche sulla vita sulla nostra vita di tutti i giorni ricordatevi che tra i tanti dati già conosciuti si sa che ogni giorno circa 2,5 3 miliardi di persone accedono a internet ogni minuto vengono inviate 200 milioni di mail caricate su youtube 60 ore di contenuti effettuate più di 9 milioni di telefonate 80 oggetti vengono ordinati ogni secondo su amazon e in tutto il mondo entro il 2020 si parla di più di 30 miliardi di dispositivi elettronici che saranno connessi alla rete roba da mal di testa istantaneo eppure questi sono alcuni dati che sono stati calcolati e allora questi big data tutti questi dati che vengono raccolti attraverso i canali più diversi e arrivano in azienda le aziende sono consapevoli della grande potenzialità che questi numeri hanno anche per il loro business per i loro affari Biffi mi aiuti un attimo a capire l'indagine che avete fatto e la capiamo un po' meglio anche grazie alla grafica vediamo subito la prima foto la prima grafica è una indagine ribadiamo questa è un'indagine che aveva come obiettivo capire la consapevolezza dei clienti nostri delle aziende in generale in Italia su quanto ne sanno di big data quanto sono presenti le professioni del futuro e quante saranno quelle che tenderanno a crescere e qual è il rapporto tra mondo della formazione e competenze necessarie qui vediamo nella grafica come la distribuzione geografica delle aziende che hanno risposto alla nostra indagine sia sostanzialmente accentrata al nord Italia dove c'è una forte sensibilità per il tema dei big data e come settore industriale abbiamo visto principalmente quello metalmeccanico e quello dell'industria e è proporzionale il numero delle risposte alle dimensioni dell'azienda ecco andiamo avanti e vediamo che in realtà la conoscenza in ambito aziendale non è molto diffusa no non è molto diffusa anzi la conoscenza approfondita del tema è solo per il 12% delle aziende però c'è una percezione molto positiva perché la quasi totalità delle aziende considera i big data e l'innovazione in generale quindi il tema della digital transformation come un'opportunità un'opportunità da vivere c'è poca consapevolezza su cosa voglia dire e quindi entrare molto nel merito dei big data però lo percepiscono come un valore che potrà essere per la loro azienda creare nuovi modelli di business e vedere la digital transformation come un'opportunità e allora nelle varie aziende questa opportunità è stata in qualche modo affrontata sviluppata vediamo abbiamo visto come solo il 20% del campione che ha risposto ha sviluppato progetti sul tema big data questo conferma il fatto che ce n'è poca consapevolezza è una scarsa conoscenza infatti se inseriamo anche le aziende che hanno intenzione di sviluppare nel breve periodo dei progetti legati al mondo big data saliamo al 30% quindi comunque delle percentuali molto basse perché c'è poca conoscenza di questo tema di questo argomento andiamo avanti con la grafica successiva ecco i settori aziendali percepiti come più avvantaggiati dall'impatto dei big data esatto questo dato è abbastanza significativo perché conferma quello che è la nostra interpretazione dei dati all'inizio cioè la scarsa conoscenza del settore o il sentito dire mi fa mi fa interpretare che io avrò un vantaggio soprattutto sull'ambito sales quindi il mondo commerciale sull'ambito marketing che sono le due aree dove l'impatto dei big data è facile da comprendere ho tanti dati li gestisco e quindi vedrò sono confident in quell'area che io svilupperò competenze lì e quindi trarranno vantaggio è più difficile da comprendere dove i big data e la digital transformation possono essere un valore ad esempio in ambito di produzione o in ambito finance dove invece tutto il tema del rischio del risk management è fondamentale ecco ma questa percezione lei la condivide è corretta secondo lei? è una percezione che hanno le aziende io penso che ci siano delle grandissime opportunità e quindi la necessità di sviluppare al meglio di approfondire questi temi e queste sono anche le occasioni importanti per andare a raccontare alle aziende che big data non è solo comunicazione non è solo marketing ma è anche produzione e anche finance sono tutte le aree aziendali ecco su questa percezione sentirei anche anche Mario che dice questa percezione quindi manca? allora da un punto di vista cognitivo tutti noi e tutte le aziende sanno che riconoscono che c'è del valore che si debba fare qualcosa diciamo che c'è un momento durante il quale si sta indagando su qual è la modalità migliore per farlo e nei vari settori delle aziende e nei vari e nei vari dipartimenti abbiamo parlato dei vari settori come abbiamo visto nell'infografica quindi la banca si comporta in maniera diversa da un manifatturiero che si comporta in maniera diversa da un telco che si comporta ancora in maniera differente da una farma all'interno di questi stessi settori c'è la parte marketing vendi che di solito è quella più così toccata ma il tema produzione supply chain e tutti questi altri ambiti possono avere dei vantaggi assolutamente importanti che effettivamente stanno cominciando a toccare ecco i profili ritenuti più interessanti nell'immediato futuro quindi si parla di nuove professioni a questo punto esatto a questo punto parliamo di nuove professioni io posso spararne un po' così al di là della grafica delle percentuali allora analyst scientist data content and communication specialist social mining specialist ragazzi qua già capire le varie competenze non è semplice allora quali sono biffi queste professioni sono di fatto sono evoluzioni delle professioni molte già esistenti riguardano principalmente gli ambiti della comunicazione del marketing l'abbiamo visto il forte impatto che ha il contenuto quindi l'importanza della comunicazione del dato gli analytics sono tutte quelle professioni che riguardano l'analisi del dato io interpreto il dato per poter prendere delle decisioni e quindi queste figure professionali saranno fondamentali tutta la parte del mondo social con i social mining tutta la parte anche di IT che viene fortemente impattata perché tutte le nuove tecnologie sono abilitanti per poi poter interpretare i dati e tutta la parte di data science questo dato vediamo che è particolarmente interessante perché torna con il fatto della complessità io il data scientist è una figura particolarmente complessa che è abilitante in alcuni ambiti come ad esempio l'ambito della produzione e è più difficile da comprendere rispetto ad altre figure professionali che sono quelle legate al mondo della comunicazione allora andiamo avanti con qualche altro dato la base è il primo dato che vi abbiamo fornito quello che appunto ci riportava al fatto che in azienda l'importanza e la conoscenza dei big data è ancora molto scarsa nemmeno il 12% ammette di conoscere tutti gli altri insomma o non conoscono o non sanno andiamo a vedere quali altri dati ci propone la grafica allora tornando ai profili di qui sopra appunto ovviamente sono figure difficili da reperire assolutamente assolutamente sono figure molto difficili da reperire o addirittura alcune non sono presenti e quindi sarà importante mettere in atto tutte quelle strategie di formazione e di sharing delle competenze per farsi di costruirle queste figure professionali costruirle in modo che siano efficaci e funzionali alle esigenze del mercato allora ci sono non è facile reperirli 54% non ci sono 42% ci sono e sono facili da reperire 2,38% professoressa Zavarrone c'è parecchio lavoro da fare sì decisamente c'è parecchio lavoro da fare e specialmente nella direzione per quanto mi riguarda della comunicazione dell'interpretazione dei dati perché bisogna essere molto accorti a capire che tipo di dato andiamo a costruire noi come Big Data abbiamo ne stiamo parlando sappiamo che alla fine che cos'è il Big Data non sono altro che una mole di contenuti diversi che vengono messi a disposizione sia da un punto di vista individuale sia da un punto di vista collettivo il problema è come poi questi dati vengono riassemblati ricategorizzati e resi fruibili al decision making a chi deve prendere le decisioni e per fare un esempio nel mondo della comunicazione e nel mondo dell'entertainment in particolare si potrebbe verificare i casi come si è verificato in Giappone quando ci fu il famoso disastro arrivarono diverse foto per testimoniare le eruzioni e tutti i disastri che erano conseguenti purtroppo queste foto non facevano riferimento al fatto successo all'effettivo disastro ma erano dei contenuti creati in altri luoghi e riciclati in quella sede quindi i dati possono contenere delle insidie quindi lo specialista il tecnico deve valutare e evitare anche di far inciampare poi l'azienda in un dato sbagliato soprattutto e questa è una delle grandi insidie quando si lavora con i big data ed è per questo che è fortemente consigliabile alle imprese dotarsi di figure che siano in grado di validare di verificare l'effettiva provenienza del dato e del contenuto del content e di far sì che questo content possa essere elaborato con metodologie con tecnologie appropiate in modo da generare informazione perché noi ad esempio un altro contesto nel mondo del retail se vogliamo citare walmart c'è stata una integrazione di diversi contenuti di diversi contenuti video legate anche a che cosa a tutte le informazioni sociodemografiche che vengono ricavate dalle tessere fedeltà ma anche ai modi di comportarsi quindi conseguentemente che cosa che cosa significa significa che se il content specialist non è in grado di identificare le fonti e capire come incastrarle per poi dopo andare a preparare fornire un altro tipo di comunicazione un altro tipo di risultato a supporto delle infografiche i big data sono una scatola vuota velocemente guardiamo ancora la nostra grafica tutti questi profili tutte queste nuove specializzazioni come trovarli come trovare questi profili adeguati allora attraverso Biffi il campione che ha risposto all'indagine e ci dice innanzitutto attraverso gli HR provider le recruitment company che conoscono il mercato del lavoro anche le agenzie del lavoro anche senza altro il gruppo ad ecco è il primo è la prima risposta che danno il campione interessante anche però l'aspetto che riconoscono che all'interno delle università per il 35% c'è il know-how quindi ci sono competenze che possono essere messe a disposizione del mercato del lavoro e delle aziende quindi parliamo di quasi tre quarti del campione risponde che HR solution company e università sono i due interlocutori privilegiati dove individuare o formare queste figure professionali ecco ci sono già competenze nelle aziende vediamo che cosa pensano il 61% dice c'è del potenziale interno esatto c'è del potenziale interno nel senso che ci sono persone che non hanno competenze specifiche ma sulle quali è possibile investire ho delle persone che hanno delle capacità su queste voglio investire dovrò dare un boost di competenze dovrò dare un extra di competenze tecniche legate al mondo big data legate alla loro professionalità mentre il 40% ritiene che invece è opportuno e preferibile avvalersi di figure esterne in quanto all'interno non hanno persone su cui investire quali competenze sviluppare e come svilupparle vediamo molto interessante il come svilupparle perché vediamo che la quasi totalità si rivolge a formazione esterna oppure a consulenti specializzati all'interno dell'azienda ma non c'è più l'autoformazione che era una delle caratteristiche della formazione in azienda fino a qualche anno fa sul tema dei big data non c'è più questo perché c'è consapevolezza invece che il tema è complesso e che non è possibile gestirlo in autonomia e per chiudere come migliorare la formazione universitaria qui c'è un dato interessante questa partnership è sempre più stretta tra mondo universitario e azienda sì è veramente molto interessante perché il 73% del campione risponde dicendo che è importante sviluppare un ponte tra mondo dell'accademia e mondo dell'impresa rafforzare le partnership lavorare all'interno insieme all'università per creare valore in azienda quindi tutta la parte di ricerca e sviluppo che viene fatta in ambito accademico deve essere scaricata a terra attraverso le imprese attraverso le aziende che vogliono lavorare sempre a maggior contatto con le università quindi agevolare e favorire il ponte tra accademia e impresa ecco conferma Maio che c'è questa utilità di questo ponte tra aziende e università sì anche nella mia esperienza andando ogni giorno in azienda quello che vedo essere un fattore di accelerazione e anche di presa di fiducia da parte dell'imprenditore o del board dell'azienda quindi che parliamo di grandi aziende quello che chiamo la multidisciplinarità al tavolo quindi un concetto un po' più ampio del tradizionale mettersi al tavolo con l'azienda come fornitore di tecnologie quali noi siamo e con un sistema integrato quindi con la classica società di consulenza vedo che il valore aggiunto che viene portato è anche quello dell'università al tavolo il professore proprio la start up gli specialisti che sono magari delle nicchie ad oggi lo vediamo dagli infografiche di specialisti del dato quindi il data scientist del business analyst che può aiutare ad accelerare la presa di coscienza ma anche un po' la fiducia per far partire dei progetti che portano poi del valore a proposito in quali settori dunque utilizzare questi dati abbiamo detto praticamente ovunque ma sentiamo in proposito un'altra intervista realizzata questa mattina a Milano con Nicola Palazzo dell'IBM Big Data non ha limiti di applicazione parliamo di ambito medico quello che ho accennato prima parliamo in ambito legale parliamo nel marketing diciamo esistono talmente tanti dati oggi disponibili in aziende talmente tanti posti in cui questi dati sono attualmente collocati che le tecnologie a supporto all'analisi di Big Data diventano particolarmente importanti per trasformare questi dati che di per sé stessi non hanno alcun valore in informazioni quindi in conoscenza da poter portare poter sfruttare con le finalità di business con le finalità non profit a seconda poi delle applicazioni ho citato già prima l'ambito medico se rientriamo in più in un ambito aziendale abbiamo trovato molto frequentemente aziende che ci dicono noi sappiamo di avere la conoscenza in casa ma sappiamo anche che non sappiamo dove questa si trova spendiamo molto tempo nel doverla ricercare nel dover eliminare i dati inutili e in questo i Big Data vengono d'aiuto perché e le tecnologie cognitive per maggior ragione perché permettono di far emergere questi dati dalle loro collocazioni attuali e esporli in un modo univoco di fronte al consumatore fruttore tutti questi dati che vengono poi gestiti diciamo così in ambito informatico ci porteranno ad avere meno posti di lavoro per l'azienda che rappresento il rapporto uomo e macchina è un rapporto conflittuale l'uomo ha capacità di sognare di generalizzare a una morale che le macchine non hanno le macchine invece hanno dalla loro una capacità di apprendimento infinito sanno disambiguare i contenuti e permettono di identificare quei modelli quelle comunanze che a noi non potrebbero apparire quindi per noi i sistemi del futuro saranno sistemi a supporto delle decisioni che non decidono per l'uomo ma che danno le informazioni e le evidenze su cui poi una persona dovrà prendere la decisione questo è Nicola Palazzo Cognitive Solutions Leader IBM Italia incontrato questa mattina appunto a Milano Bicocca ci fermiamo per qualche istante a Milano Bicocca a Milano Bicocca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so se avete notato, sembra che sia una figura con il mantello, no? Perché deve essere in grado di saper fare, conoscere i modelli statistici, saper gestire le indagini, conoscere il marketing, la comunicazione, l'informatica, l'ingegneria. Deve avere un sacco di competenze. Allora, figure estremamente specializzate, con competenze trasversali infinite che immagino verranno e vengano pagate anche molto bene. Non so se vuole... O devono essere formate. Devono essere formate. E quindi adesso cosa fanno gli stagisti, Maio? No, non ci sono. Ci sono stagisti in giro con tutte queste competenze? Sì, anche. Ci sono anche stagisti. Diciamo che oggi dobbiamo pensare a questo approccio in maniera un po' diversa da quella tradizionale, quindi vale un po' tutto, no? Magari uno parte che fa lo stagista e dopodiché se li trova con molta competenza, perché magari quello stagio lo va a fare in un'azienda dove si è deciso di far partire un progetto. E quindi si impara anche un po' sul campo. Poi ovviamente con tutta quella multidisciplinarità di cui parlavo prima magari si arricchisce anche il contesto, no? Certo. Tra l'altro leggevo una cosa che mi piace molto anche proprio a livello personale, cioè questa preparazione estremamente specifica, approfondita e anche molto impegnativa, deve essere poi affiancata da quelle che vengono chiamate soft skill. E quindi c'è competenze che vanno oltre, che in qualche modo vanno a sollecitare anche quelle che sono le qualità e le attitudini personali. Quindi per esempio la curiosità verso alcuni aspetti di queste professioni, quindi che sono la comunicazione, i prodotti, gli scenari, le innovazioni. Quindi questo professionista deve essere curioso e comunque avere un aspetto e un comportamento magari se non professionale, semiprofessionale, anche su vari altri strumenti che non sono estrettamente attinenti alla sua professione. Poi bisogna essere aperti a una formazione continua, bisogna organizzarsi in autonomia e in indipendenza, cioè quindi bisogna veramente darsi da fare parecchio. Comunque si va al di là appunto del concetto di formazione fino a se stessa, ma è una formazione continua arricchita da quelle che sono le attitudini e le curiosità personali. Insomma questo è un bel vantaggio, speriamo che le aziende poi sappiano in qualche modo valorizzarlo. Comunque sulle numerosissime competenze necessarie e previste abbiamo sentito questa mattina anche la professoressa Elisabetta, anzi la dottoressa Elisabetta Padeu, Sales Manager di Modis Italia, Modis Italia che è un'azienda del gruppo ADECO che è proprio specializzata in ICT. Sentiamo. Secondo la nostra ricerca di Modis US le figure in crescita da oggi fino al 2024 sono in convergenza con quelli che sono i trend tecnologici attuali, quindi l'internet delle cose, i big data, il cloud, la parte di mobility. In particolare le figure che cresceranno di più in questi anni sono quelle che riguardano l'analisi dei dati, l'analisi dei sistemi, la parte della sicurezza, il web development e anche l'health IT. La cosa interessante che aggiungo è che la nostra ricerca parla anche di quelli che sono i professionisti del futuro che saranno pagati meglio, a testimonianza anche di una difficoltà nel trovarli, nel formarli e alla loro importanza all'interno delle aziende. Tra questi ne citiamo tre, in particolare il Change Management Specialist, proprio a indicare come le aziende oggi e in futuro avranno bisogno di professionisti in grado di portarli, condurli nella grande trasformazione che stiamo vivendo. Pensiamo all'Italia, al tema della digital transformation che è così importante. L'altra figura importante sarà e chiave è la figura dello user interface, a dimostrazione che la tematica della usabilità di tutte le applicazioni che noi abbiamo avrà un'importanza sempre maggiore. E qui il trend importante che vediamo tutti i giorni è che si arriverà addirittura al linguaggio naturale. Per finire poi con il Data Scientist, che è la figura molto importante che le aziende cercano oggi e che cercheranno ancora di più domani. Una figura completa in grado di analizzare il dato, comprenderlo e trasformare il dato in una potenzialità di business, di strategia per le aziende. In particolare diceva che il Data Scientist deve avere un numero di competenze infinite. Sì, infatti, se leggiamo un annuncio di lavoro del Data Scientist che noi pubblichiamo tutti i giorni online, assistiamo alla descrizione di un superman o di una superwoman, di un fenomeno, perché deve avere delle forti competenze tecnologiche come base, ma deve avere competenze trasversali che abbracciano gli altri settori, dalla parte di l'analisi, la strategia, l'organizzazione e il business. È un profilo ormai multidisciplinare che sempre di più deve abbracciare tematiche all'interno dell'azienda. Chi forma queste nuove figure? Questa è una bella domanda. Chi le forma? Sicuramente è una grande attenzione, una grande aspettativa da parte dell'università, che si stanno strutturando e si sono già organizzate per avere dei corsi dell'ora specifici, grande aspettativa da parte degli istituti che devono modificare in qualche modo i loro percorsi di studi e grande aspettativa viene data anche alle aziende, alle società che operano nel settore. L'obiettivo è quello di creare dei tavoli multidisciplinari in cui si riesce ad unire le competenze richieste dagli aziende, quindi ciò che le aziende concretamente vogliono, insieme a dei percorsi accademici. Quindi su questo, per esempio, quello che sta facendo Modis negli ultimi anni è lanciare delle accademy che mettono insieme le richieste delle aziende con i percorsi che poi sono volti a formare queste figure. E tra questi il Digitalmente, che è un programma che lanceremo adesso, che è specifico sulle figure IT. Il mercato del lavoro ha una forte richiesta di queste figure e che però mancano. Esatto, una grandissima richiesta. I dati dell'Unione Europea parlano di una crescita anno su anno del 4% di figure professionali. I nostri studi parlano addirittura di una crescita da qui al 2024 del 12% di queste figure, che il 12% è quasi il doppio rispetto alla crescita attesa per gli altri settori. Quindi è una grande richiesta. E purtroppo devo dire che queste figure mancano. I dati dell'Unione Europea parlano nel 2015 di 700.000 posizioni vacanti nel settore. Moltissime di queste sono rimaste in evase. Quindi c'è una grande potenzialità e una grande attività che si può fare per colmare questo gap. Allora bisogna veramente mixare un sacco di competenze dal marketing alla progettazione per definire quelle che sono le figure capaci di portare valore aggiunto alle aziende. Si tratta di multicanalità, digitalizzazione, virtualizzazione, cloud, mobile, social, appunto big data. Insomma, ma io qui in un attimo uno è fuori mercato, bisogna tenersi aggiornati perché altrimenti è un mercato questo molto particolare. Si, bisogna tenersi molto aggiornati, però c'è anche da dire che oggi, diciamo che volendo dare anche una sorta di ricetta all'azienda che vuole mettere a frutto, io ho sintetizzato in tre fondamentali elementi, ne parlavamo anche stamattina. Da una parte sicuramente le infrastrutture tecnologiche, questi computer, super computer, mega computer. Dall'altra le capacità e l'altra ancora sono le competenze. Sul primo c'è stato lo spauracchio, si diceva stamattina, della tecnologia. Oddio, mi devo portare in casa, devo acquistare, devo supportare, devo mantenere delle infrastrutture tecnologiche importanti. Questo lo si può fare, ma oggi tutto questo è molto più facilmente fattibile con un acceleratore folle che quello del cloud. Il cloud è un motore di innovazione assolutamente importante per tutte le aziende di tutte le dimensioni perché dà disponibilità di tutte queste infrastrutture semplicemente con una connessione. Quindi c'è tutto là. Cosa ci mettiamo là dentro? Ci mettiamo dei software capaci, quindi le capacità, le capacità date dagli algoritmi, da tutte queste sofisticazioni che ci permettono il colloquio col dato, tanto per tornare al concetto dell'ascolto del dato, del colloquio del dato, quindi con la curiosità, con la cosa che ci permette di scoprire l'insight, quindi quello che io chiamo la serendipità del dato, cioè trovo quello che non cerco. E da lì va arrivare il vantaggio competitivo. Questo come lo faccio? Con il terzo elemento importante, che è un po' il fattore comune denominatore di questo incontro di stamattina, che è il cuore delle competenze. Le competenze al tavolo che sanno usare le capacità di questi software su infrastrutture importanti e oggi disponibili. Ecco, così si accelera e si può mettere a frutto il valore dei big data. È bello, e trovo quello che non cerco, è fondamentale, appunto sa un po' di magia, anche perché poi lei di fatto questi dati, questi dati richiesti, non solo si tratta di un'analisi, come dire, descrittiva, ma in qualche caso anche predittiva, cioè bisogna, avete presente la sfera magica, una volta c'era il mago con la sfera magica, adesso invece si guardano i dati. Sì, diciamo che l'utilizzo dei big data porta valore vero laddove scopro qualcosa di nuovo. Quello che ho in tempo si chiamava la business intelligence, dava più informazioni di carattere descrittivo e diagnostico, mi dice che cosa è successo. Oggi parlando di big data, si accosta immediatamente all'altro concetto che è quello degli analytics, quindi la parte di business analytics, machine learning e tutta quella ampia fetta di branchia che è una branchia dell'intelligenza artificiale che ci aiuta a, diciamo, interpretare questo tipo di informazioni. Questo è assolutamente importante e utile, altrimenti senza questo non si può avere quella componente predittiva o prescrittiva che ci permette di identificare un fenomeno. Innanzitutto prevederlo, se è buono o non buono, e a seconda di quello che avviene prendere anche dei provvedimenti. Lì le aziende possono avere dei vantaggi competitivi. Pensate al mondo delle frodi nell'assicurazione delle banche, ma non solo, o nelle garanzie nel manifatturiero, no? Quindi anche lì tema di frodi, di garanzie, o alla manutenzione predittiva, quando magari non so se è successo, a me sì, che le richiamano l'auto quattro volte per un pezzo difettoso. Immaginiamo cosa significa per un'azienda che produce automobili evitare il richiamo per il pezzo di ricambio fatto da una capacità maggiore delle macchine di prevedere il difetto e quindi di evitarlo. E quindi parliamo di data quality. E via, 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 ci potrebbero essere molti altri esempi. Ecco, professoressa Zavarrone, ma di fatto le figure professionali in qualche caso sono solo i risultati di un'evoluzione di figure già presenti? Sì, nel senso che l'attenzione ai big data è sicuramente importante. Sicuramente ci sta trainando, guidando in una nuova dimensione, in una nuova era. Però questo non significa che tutte le figure professionali che hanno contribuito allo sviluppo economico, allo sviluppo in senso lato della nostra società, adesso non esistono più, non hanno più motivo di essere produttivi, perché arrivano i big data e i big data risolvono tutti i problemi. Assolutamente no. Le figure, l'avvento dei big data è soltanto, soltanto ovviamente, tra virgolette, un'evoluzione della società. È una trasformazione di alcune professioni. pensiamo a tutto il mestiere, a tutte le competenze che ruotano intorno al comunicatore. Con l'avvento dei big data abbiamo bisogno di altre capacità, di altre soft skills che sono intimamente connesse alla leadership e a saper leggere i nostri big data. e questo non significa che l'esperienza, che il comunicatore, tutte le competenze che ha acquisito e accumulato durante il corso della sua vita non servono, no. E sono necessarie, è un connubio necessario per poter stare, per poter produrre valore. Anche a livello statale di governo si tratta naturalmente questo aspetto. Diego Piacentini, già numero due di Amazon e ora commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale in Italia, ha ufficiosamente presentato la sua squadra nei giorni scorsi, ha indicato i vari obiettivi che appunto porteranno a digitalizzare ancora di più la pubblica amministrazione. Tra i tanti obiettivi, dice Piacentini, eseguiremo moderni modelli di progettazione, ci baseremo costantemente sui dati, appliceremo algoritmi di machine learning e di tecniche di intelligenza artificiale quando necessari per risolvere i problemi complessi. Big data adora anche a Palazzo Chigi. Ecco, ma tutto questo, la privacy doveva finire? Siamo certi che tutti questi dati poi in qualche modo siano sempre così utili? Biffi, lei che dice? La privacy è senz'altro un tema fondamentale. Dobbiamo però sapere che nel momento in cui noi entriamo su qualsiasi strumento digitale, lasciamo una nostra traccia, non possiamo evitare. L'unico modo per non lasciare tracce è non esserci, ma non esserci vuol dire anche non farsi trovare. Quindi trovare il giusto compromesso su questo è sempre il tema più complesso. Maio, anche lei, trasparenza, privacy e sicurezza, insomma sono temi belli pesanti. Sono tra le prime cose che dobbiamo affrontare ogni qualvolta ci sediamo con un cliente, in particolare in modo con la parte dei sistemi informativi che ci chiede rassicurazioni. E lì via di certificazioni e di comprovata esperienza in questo senso o best practices vengono applicate. Dobbiamo salutarci. Tra l'altro c'è anche qui a Cremona con MailUp, Microdata e Lineacom con la collaborazione del Politecnico di Milano. Prosegue il progetto sistema innovativo di Big Data Analytics che passa alla fase sperimentale. Sostenere la digital transformation sul piatto oltre 4 milioni di euro, 1,8 dalla regione. La notizia è proprio di oggi. Quindi anche qui a Cremona ci sarà modo di tornare a parlare di Big Data. Vi ricordo che tutti i riferimenti che abbiamo visto prima in merito anche all'indagine promossa da ADECO li potete trovare sul sito adecogroup.it e anche sulla pagina Facebook di ADECO. Bene, direi che possiamo ringraziare e salutare i nostri ospiti Lorenzo Biffi, Attraction Manager Gruppo ADECO Italia e poi la professoressa Emma Zavarrone, professore della Yulma di Milano e Stefano Maio, direttore Business Analytics Oracle Italia. Vi ricordo che tutti gli approfondimenti li trovate poi sul settimanale Mondopadano e sui siti Cremona Oggi, Crema Oggi e Olio Po News. Grazie per essere stati con noi anche questa settimana. Alla prossima. Grazie per aver guardato il video.